Il porto turistico Marina di Tescara ospiterà dal 13 al 14 novembre prossimi la decima edizione di Abruzzo Attrattivo, il primo ed unico evento in Abruzzo interamente dedicato al turismo attivo ed esperienziale. Il secondo appuntamento è previsto all'Aquila il 3 dicembre presso il Palazzetto dei Nobili. Turismo attrattivo, turismo esperienziale, turismo attivo. L'Abruzzo ha tutte le carte in regola per poter soddisfare queste richieste. Sicuramente sì, anzi penso che l'Abruzzo si candidi ad essere una delle mete più ricercate per quanto riguarda il turismo attrattivo. Ovviamente abbiamo un territorio che offre ogni possibilità legata al cicloturismo, legata ai cammini, legata ai borghi, legata alla negozionomia e Abruzzo Attrattivo sarà un momento di riflessione fra istituzione ed operatori per vedere come migliorare il settore. È evidente che è un settore in crescita esponenziale in Abruzzo. Noi la settimana prossima tireremo fuori i dati che mostreranno proprio una crescita esponenziale del turismo legato alle esperienze e soprattutto nell'Abruzzo interno. Una decima edizione con un programma ricchissimo che lancia delle sfide. Il claim è che la qualità è una questione di scelte. Non si può prescindere dagli standard di qualità e soprattutto dobbiamo avere il coraggio di lanciare una grande ambizione per questa regione. L'Abruzzo può essere la regione del turismo attivo e esperienziale in Italia, la prima regione. Cambiano le esigenze dei turisti sempre più spesso alla ricerca di nuove esperienze e nuovi luoghi. I turisti sono molto più preparati, più curiosi, hanno più voglia di vivere un territorio e viverlo attraverso delle esperienze, vivere le comunità che vivono questi luoghi. E quindi noi con Fesercenti e con Federpate abbiamo pensato di istituire in questa regione quello che deve essere un movimento virtuoso, quello di professionisti e operatori turistici che lanciano delle sfide a loro stessi e le lanciano anche alle istituzioni, attraverso un cambio di paradigma, dialogare in maniera leale, schietta e costruttiva. Pensiamo che ormai le esperienze, le emozioni debbano essere il leitmotiv dell'ospitalità anche qui in Abruzzo, soprattutto le esperienze fatte dai professionisti. Abruzzo Attrattivo, questo vuole in qualche modo lanciare come messaggio, l'ospitalità non è fatta solo di hotelleria, di extra alberghiero, ma bisogna offrire un'emozione, un'esperienza e bisogna farlo con i professionisti del settore.